Torna a Preturo passeggiando di luglio, domenica 22 luglio con partenze da Cese alle 16.30, un modo per conoscere il territorio e le sue bellezze. Il raduno ci sarà nella piazza della Fontana a Cese con una breve visita al palazzo storico Quinzi nella frazione di Cese. Poi si salirà verso il castello di Preturo per visitare i Ruderi e riscendere a Colle incontrando lungo il percorso altri bellissimi punti di interesse come i fontanili di Pozza e Colle e i parchi pubblici presenti nelle piccole frazioni. Si proseguirà poi verso Pozza ed uno storico fontanile restaurato costituirà la boa del percorso e quindi carichi di cultura si tornerà verso il punto di partenza per soffermarsi velocemente sulla chiesa di San Pietro Apostolo e sulla fontana monumentale di Preturo. Tornati al via, auto muniti, si ripartirà alla volta del Circolo Sant'Anna per un aperitivo ed una cena tipica abruzzese. Per chi vorrà c'è anche la possibilità di iscriversi all'Associazione Culturale Amiterno o al Circolo Anziani numero 4.